Nel Palazzo di Città di Ascireale, oggi giovedì 30 novembre, verrà esposto l'abito artistico della fashion art designer Gisella Scibona, dedicato a Santa Venera Vergine Martire, patrona della Diocesi e Città di Ascireale. Nell'antisala Galatea, nell'aula consigliare quindi, sarà possibile osservare il vestito di alta moda in occasione dell'importante ricorrenza della giornata della città di Ascireale, che ricorda l'anniversario della denominazione di città avvenuta nel 2005. La manifestazione avrà luogo fino alle ore 18 per gli studenti, a seguire avrà inizio la cerimonia cittadina. L'abito riporta l'opera La Gloria del pittore settecentesco Antonio Filocamo, presente nella Basilica Cattedrale di Ascireale e precisamente nella Cappella della Santa Patrona. In questa occasione di festa per la città, quindi, sarà in mostra eccezionalmente nei locali del comune. L'abito fa parte di una collezione di un trittico di vesti installato dentro una nicchia del campanile della Basilica Cattedrale di Ascireale. L'evangelizzazione e il martirio di Venera completano la serie. Per ricordare l'istituzione di città, inoltre, il sindaco Roberto Barbagallo ha organizzato diversi momenti al Palazzo Comunale, con tour e manifestazioni culturali proposte a visitatori e scoleresche.